Consigliera Zara, quali sono le principali novità della conferenza metropolitana sul dimensionamento di quest'anno? Intanto abbiamo praticamente completato la verticalizzazione di tutti gli istituti, rimangono solo alcune criticità e quindi partiranno adesso le ultime circoscrizioni rimaste nella città di Torino. Per quanto invece riguarda l'offerta formativa, insomma abbiamo lavorato molto bene insieme alle istituzioni scolastiche e devo dire che le aperture che a noi sembrano più significative in particolare riguardano i licei scientifici di scienze applicate. Una richiesta che abbiamo visto crescere negli anni da parte delle famiglie e quindi abbiamo tentato in questo modo di dare delle risposte. In particolare avremo l'Istituto Agrario di Pianezza che avrà l'opzione di scienze applicate e ha già detto che vorrà fare una curvatura ambientale. Avremo poi il liceo Darwin di Rivoli che è uno storico e importante liceo scientifico della nostra città metropolitana che arricchisce l'offerta formativa con le scienze applicate e anche un'apertura all'Istituto Plana che storicamente è un istituto professionale e abbiamo deciso di dare questa opportunità anche al territorio e alla scuola. Questi sono i licei scientifici in apertura. Le novità più importanti invece che riguardano gli istituti tecnici possiamo dire appunto il Baldessano Roccati a Carmagnola nel quale vi sarà un'opzione agroalimentare, agroindustria. Poi avremo l'opzione nell'Istituto Ferrari di Susa informatica. Per quanto riguarda il Prevè a Pinerolo avendo già le opzioni di enogastronomia alberghiero si arricchisce di un'opzione successiva che è quella di cultura e spettacolo e così completa il polo enogastronomico presente.